Nel giorno più nero dall'inizio della pandemia, segnato da 72 decessi e 1.419 nuovi casi di infezione da Covid, la Puglia viene promossa inaspettatamente in zona gialla. Il ministro della salute Roberto Speranza firma l'ordinanza che assegna alla regione guidata da Michele Emiliano la più moderata delle fasce di rischio, dopo essere stata per un mese zona arancione. L'ordinanza, che sarà effettiva a partire da domenica 6 dicembre, prevede lo stesso cambio di colorazione anche per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Marche. Con l'approdo in fascia gialla, spostarsi fuori dal proprio comune non sarà più vietato e bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie potranno finalmente riaprire, anche se soltanto dalle 5 alle 18, fatto salvo sempre il servizio di asporto sino alle ore 22. Una notizia che sicuramente non farà felici i sindaci della BAT, che proprio ieri sera avevano rappresentato al prefetto Valiante e all'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, la loro preoccupazione per un eventuale alleggerimento delle misure di contenimento sul loro territorio, che in alcune realtà, come Andrea e Barletta, andrebbero piuttosto rafforzate. Un'attenuazione dei divieti per effetto della collocazione in uno scenario di minore gravità come la zona gialla, hanno detto i sindaci dei tre capoluoghi della BAT, potrebbe avere ricadute molto negative sul piano epidemiologico e sanitario, soprattutto in vista dell'imminente periodo natalizio. Considerazioni rafforzate dall'ultimo bollettino regionale, che assegna alla provincia BAT 165 nuovi casi di coronavirus e 8 decessi. Non la situazione più drammatica se confrontata con la provincia di Bari, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 741 nuovi casi di infezione e 21 morti e la provincia di Foggia con 106 contagi e ben 35 decessi. Le uniche notizie confortanti per la Puglia arrivano dal leggerissimo calo del numero dei ricoverati e dal rapporto tra tamponi effettuati e positivi riscontrati, passato dal 18% di ieri al 15% di oggi.